Nooo! Fammi smacciare! Hola Yos Family! Qua è Pepius! Oggi super prank a Graziana che lei mi ha fatto 3 anni fa Quindi finalmente mi prendo la vendetta perchè sono una persona vendicativa Lasciate like Guarda Vado a schiattare Guarda i bimbi che ridono Guarda questo! Nooo! Ma noi tra un po' Tocca a noi porca miseria Di che cosa? Ma fa il bambino Si Mamma me Tu proprio papà Perchè tu si? No Si ma c'è tra un po' Ci siamo Ci siamo? Mo' stasera proprio Dai fa la seria Tu puoi Graziana Dai serio per capire Oh! Che testa di che? No voglio capire perchè non te l'ho mai chiesto Che cosa? Cioè secondo te è arrivato il momento o è presto ancora? Ma presto? E che presto quanto? Però tu c'hai una certa età stai facendo ovecchia Troppo arriviamo una trentina a te Ma che stai dicendo? Eh che bugia Sì ma ci vuole ancora del tempo Eh a 50 anni lo aveva il bambino No ma di certo adesso no Ma in questo preciso istante alle 18 e 39 ti direi anch'io di no però Vabbè per le 20 allora ti dico di sì Vai deficiente E fai parlare seria Ma perchè te ne sei uscito questa cosa? E perchè stavo facendo di bing Mi sono usciti consigliati E te l'ho chiesto Ma riesci a darmi una risposta? Voglio prima sposarmi Se aspettarlo mai Non lo avrò mai la tua vita Perchè un bambino si è il matrimonio? Ma vuoi mettere un bambino col matrimonio? Vuoi mettere il matrimonio? E presto secondo te o siamo in un buon periodo storico? Non è un buon periodo storico Per avere un mini Perchè si sta ribaltando la situazione Che vuoi dire un mini pepios che metti? Adesso no lo sai E quando? Non ti dico che mo lo voglio mo Ora proprio Però per capire Perchè un si fa due conti Ma per adesso sicuramente no Dato come sto Come sto? Per qualche problema non lo so Ma se ne parla almeno tra 3 anni Però ma tu pare vecchia Ho capito Ma io adesso non posso permettermelo a un bambino Ma non ho una mia stabilità Devo prendermi l'abilitazione Diventare avvocato Trovare un lavoro stabile Sì Arrivi a 60 anni che sei I nostri genitori tipo già ce l'avevano da 5 anni Perchè i nostri genitori avevano anche una professione Secondo te entro questa Ma che quest'anno? Ma non ancora anno prossimo? Come? Il tempo stringe Tra questo non posso Mi dispiace Ci sono delle necessità Non è questa La necessità per adesso Non me la sento di Fare un figlio Fare un bambino Perchè sono ancora io Una bambina come te D'altronde Cioè noi siamo capaci di Scordarci Vedere quello del bambino Dall'asilo Sì ma ma che? Quindi Ma siccome Zeus è piccolino Capito? Almeno poi gioca Capito? Poi Zeus ha fatto grande Sarà più adulto Per stare con un bimbo Dai non fare il cretino oggi Ma io te lo sto dicendo Non perchè lo voglio fare Era una domanda Per capire tu Che cosa c'è nel cervello Una domanda esplorativa Capito? Ok Come dura Ho fatto durare l'esploratrice Nel tuo cervello Fine dell'esplorazione Io dico I tuoi unici problemi Al momento Sono Collezionare Tutto Naruto Tutto Spiderman E giocare A Harry Potter E a Dragon Ball Che esce Perché poi così No come te ne sei uscito questo bambino Lo sai che poi non potrai più giocare Va bene Ma domani Che ne pensi Se scaliamo l'Everest Senza Imbracature Ma voglio sapere che ne pensi a fare C'è sempre un motivo Se ti faccio delle domande io Sì Poi te le dirò piano piano Gra Guardate questi Nippio Maaa Sono buoni Io qualche volta li prendo Te li mangi tu Sì Sono buonissimi Ma stai scherzando? Sono buoni Ma secondo te Quando poi in futuro Avremo il bambino Che bacca possiamo prendere? Questi ci stanno Nippio Io non l'ho mai sentita E che prenderesti tu? Plasmo Mica ci sono le omogene No Che cosa è la mia sorella? No Lei chi è? Comato Al pollo Questo lo puoi prendere per la palestra Eh ma sto dicendo Lo faccio diventare pompato il bambino Vediamo le proteine È finito No però secondo me ci sta a comprare Oh guarda se sono i cereali all'oreo C'ha la testa sulle nuvole sta ragazza Mica gli puoi dare i cereali all'oreo Con te sto parlando? Eh Ho detto mica gli puoi dare i cereali all'oreo Tu mi stai stancando Vai Smettila Ma che ci sto pensando? Vuoi prendere le caramelle? No No Tu se ci pensi Se noi facciamo il mio uomo Tu freddi il bonus mamma 5-5 euro mesi Perché sei giovane ancora È finito Però sei super in 30 No È finito? Ma è vero Ma non funziona così il bonus mamma tra l'altro Ci sono tanti fattori da prendere in considerazione Però vedi che lei sai le cose allora Non so Certo che le so Ci lavoro per queste cose Ci mancherebbe Non è buono che hai pure 500 euro Perché devi aspettare a averli Cioè poi non averli più Ma se l'hanno fatto... Ah ok Ma perché io ti parlo e tu sei appezza dal cibo? Gra 4 euro e 27 Ma guarda Non ti do ascolto Hai rotto Io te lo sto dicendo Stai facendo troppo il bagliaccio per i miei gusti Io parlo e le pensi giocato Ci sta solo con Elsa 30 anni e le pensi giocato Allora 30 anni ce li hai tu Il tuo orologio biologico è andata a fare i funghi Sì Come la famiglia a fungo Non avevo dubbi Un carino Ma è bruttone Sei brutto 50 kg addosso a me Sei 18 Perché ti piace stare qui 20 kg pesa Eh ho 20 kg addosso Cosa buono Ma è brutto Tu sei brutto Tu sei brutto Bello Guarda questo Che carini Sto pieni di tiktok di bibi Guarda il cuore Ma che occhioni Però ti piacciono Tu dici che non ti piacciono i bambini Ma non hai detto che non mi piacciono i bambini E tu hai detto no che schifo non li voglio Eh non li voglio Eh quindi ti piacciono in realtà Certo che sono carini E allora qual'è il problema non capisco Ah non lo vuoi Non adesso Perché? Zeus Degli ero tu per paura Ma io ti sto dicendo che c'è un motivo per tutto Se ti dico queste cose Sarebbe il motivo? E poi te lo dirò Piano piano Tu Eh un anno No Un anno massimo Assolutamente Cioè in un anno già devi nascere Quindi dobbiamo sfrutarci ora Cioè un anno praticamente è oggi Per partorire al fine anno Vabbè poi se vuoi fare succedere senza che faccia quel bambino ok però Zeus E tuo padre è un po' scemo Zeus Che padre che sei Zeus Ciao Voglio dormire Come tu sei il palazzo di mia vita? Oh grazie Comunque Ti devo dire un fatto E si toglie le scarpe Dobbiamo morire di puzza Tu Che cosa ti sto dicendo da giorni e giorni? Io vuoi partire Oltre sto fatto Questo è il modo migliore per arrivare all'argomento che voglio dirti Il fatto del bambino Ancora E io ci ho detto la mia quindi non mi scassare Ascolta ti sto dicendo tutto sto fatto per un motivo Cioè? Se noi mo ci mettiamo E facciamo Zeguitizzando te Beh Dopo nasce La creatura E fin qui? Saresti d'accordo fin qui? No L'idea che mi è venuta Cioè noi se facciamo questa cosa Sì Possiamo fare un video al giorno Tutta la gravidanza Graziana è poi incinta Oh Maschio femmina Di chi sarà? Oh Una complicazione per Graziana Morirà? Oh no Graziana è salva Che bello è nato Gianfrancesco E' finito 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 Bro Ma non è che uno fa un figlio per lo scopo del video su Youtube Ma è per fare i soldi Cioè Sto vedendo i video tipo degli americani che hanno i figli E dice perché non lo facciamo pure noi I soldi a plate Bro Ma se non te noi devono fare un figlio per fare i soldi per guadagnarsi da Youtube vuoi la risposta sincera o la risposta falsa? ma che siamo? bro! come si dicono queste cose? per me no! e vicky per sempre si svelera ma chi ragiona così? ciao gra! non rompermi dai non rompermi dai gra! dai sei stupido se devi ragionare così cioè io non ho altre soluzioni beh facciamo no 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 per me fermo dai vים dai dai vogliamo fare il bambino dai 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 no dai dai no lei e dai facciam un bambino i facciam un bambino dai c'è Sounds no addio è un mio prank è vero Graziana è plurincinta di 4 generi dai facciamo è un prank io lo so che è un prank perchè non è possibile che sei così bacato e così manualista e ti conosco non sei così materialista non chiamiamolo prank bambino che fai che te l'ho sgamato non hai sgamato niente voglio farlo veramente bambino un merda prank hai fatto beh ti togli i vestiti no dai sto aspettando e aspetterai i bambini non si fanno così continuerei ad aspettare facciamo bambino no questa era la mia super vendetta dopo 3 anni sgamato sono stati 4 giorni di insistenza prepotente sono il migliore questo lo pensi tu così mancava e ti convincevo si si sogna così mancava e il pepio sarebbe diventato papà ios perchè papà ios diventa nonno ios oddio beh io direi che ora possiamo provare a fare il vero bambino sei zitto beh ragazzi ci vediamo tra nove mesi certo ciao